Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuovissima giornata qui in Corsica quindi in marcia dopo aver salutato la spiaggia di Sangone ci dirigiamo verso la città di Agiaccio prima di andare avanti però ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale tramite il pulsante che troverete qua sotto a voi come sempre non costa nulla, è totalmente gratuito per me invece vuol dire tanto tanto supporto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti nel 1768 anno appunto del trattato di Versailles e un anno dopo appunto nel 1769 assistiamo alla nascita di una delle persone più importanti nella storia ossia Napoleone Bonaparte così nel 1800 tutto ciò che era stato fortificato dai genovesi quindi le mura, le torre, tutto quanto vennero pian piano demoliti e abbattute nel 1942 invece la città viene occupata dai tedeschi, dai nazisti durante il secondo conflitto mondiale è liberata poi nel 1943 appunto grazie ai partigiani corsi e alla resistenza locale e l'ultima tappa che ci aspetta della giornata di oggi è appunto la spiaggia di ricanto che si trova ancora un po' più avanti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti